Un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 8. Adesso ho bisogno della vostra collaborazione. 8. Voi alzate tutte e due le mani, tutti quanti, pure qui è la mia destra, no questa è la sinistra, vabbè è la vostra destra allora. Allora alzate le mani, tutti quanti, tutte e due, su, fate così, tutti quanti, le fanno ballire, guardi che c'è l'insegnante a bambini. Grazie a tutti. 8. Voi alzate le mani, tutti quanti, le fanno ballare, guardi che c'è l'insegnante a bambini. 8. Voi alzate le mani, tutti quanti, le fanno ballare, guardi che c'è l'insegnante a bambini. 8. Voi alzate le mani, tutti quanti, le fanno ballare, guardi che c'è l'insegnante a bambini.